Musica Ciao ragazze, come vedete dal titolo questo sarà un video su questo trucco che ho fatto Mi avvicino un attimo E' questo qui E' molto molto luminoso, come ho già scritto su Whatsapp Come ho già scritto su Facebook, ve l'ho anticipato Però volevo fare una premessa Questo si è un trucco luminoso per l'estate Però ciò non vuol dire che è un trucco anti-afa Quindi non è un trucco, come si può dire, leggero Quindi ho fatto base, correttore, tutto quanto, come al solito Quindi per chi cercava magari un trucco con appunto pochissimo trucco Non è questo Però lo farò più in là, magari un trucco con pochissimi prodotti appunto proprio per il caldo E quindi questo volevo dirvi Io spero che il video vi piaccia E ci vediamo al prossimo Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.